Il weekend di Telepiu, tre giorni pieni di emozioni. Se ti vedono, tu sei morto. Su Telepiu Bianco, venerdì. Leonardo Di Caprio compie il passo fondamentale verso il mito. Romeo e Giulietta. Sabato, la notte del grande calcio. Roma Udinese, una sfida per entrare tra le grandi. Domenica, Leona, Director's Cut. La versione senza tagli dello straordinario film. Di Luc Besson. Su Telepiu Nero, venerdì. Danny Hopper, gangster illuso e perdente, sfida il boss. Per amore di una porno star. Sabato, in esclusiva, l'oriente fantascientifico dei manga giapponesi. Vampire Hunter. Domenica, Joe Mantegna. Per un thriller ad alta tensione. Rischioso o inganno. Questo weekend, c'è più scelta con Telepiu. C'è più scelta con Telepiu. Sì. 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 Grazie.